Quello che abbiamo visto ieri al congresso statunitense di Washington non è poi così tanto una sorpresa O almeno sulla carta lo è Negli Stati Uniti, paese democratico per eccellenza Nel concreto, un po' meno Anni fa in università, un professore di sociologia ci fece vedere i diocarsi Lo conoscete? La descrizione di una realtà sociale in un futuro lontano che non tiene conto anche delle più semplici e banali regole su cui si fonda la democrazia Signore e signori, il Presidente d'America! So che le cose vanno di merda con le stronzate della carestia, le tempeste di polvere, siamo a corto di patatine fritte, di salsa per il burrito Ma io ho la soluzione È quello che hai detto l'ultima volta, sto la soluzione Sei un coglione Film che noi studenti ritenevamo al di là dell'assurdo Nel giro di 15 anni siamo finiti lì E probabilmente sarà sempre peggio Come siamo arrivati a questi punti? Sulla base di una comunicazione incentrata sul fomentare odio, ignoranza, falso Una politica che cavalca, manipolando, il malessere popolare Che centra il suo messaggio sulla pancia delle persone e non sulla testa E questi sono poi i risultati Anche nel paese ritenuto il numero uno al mondo E secondo me c'è poco da scandalizzarsi nei confronti degli Stati Uniti Perché da noi le cose sono identiche Lo stesso stampo di comunicazione avviene in Italia per diverse fasce politiche Ahimè quindi non mi stupirei se domani vedessimo le stesse scene in Italia Nulla di imprevedibile Cominciare a riconoscere queste dinamiche e iniziare a pensare con la propria testa Sarebbe già un bel punto di partenza Sul caso americano è da ieri che vi faccio costantemente una domanda In un paese così attento a livello di legge Per esempio a evitare l'uso di qualsiasi bevanda alcolica all'aperto Com'è potuto succedere tutto quel macello con una facilità così disarmante Forse quel film che vi citavo prima non andava così tanto al di là della realtà in cui ci troviamo oggi Anche tu la pensi così? La pensi diversamente? Commenta, lascia un like, condividi il video e iscriviti al canale Ci vediamo al prossimo video